Il Francavilla inizia l'anno con un pareggio allo stadio Aghettoni di Fabriano, resta con un po' di amaro in bocca la squadra di Iervese, che benché in inferiorità numerica, è prima andata vicina al colpo del K.O. e poi ha incassato la rete dell'1-1 che rimanda all'appuntamento con la prima vittoria del 2018. Un peccato per il sodalizio del patron Candeloro, senza Amente e Fofanai con l'esordio del neoacquisto di Cecco posticipato domenica prossima, Iervese schiera in avanti il serbo Aleksic, arrivato dal Taranto in coppia con Zerbo. C'è Milizia in mediana, nel Fabriano c'è Zuppardo in avanti con Peronullo, in campo anche l'ex aquilano Ibogio. La carona cadere l'incontro parte al minuto 8, quando Romeo atterra in area Peronullo per Farondi, Conegliano e calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Zuppardo che spara alto sopra la traversa. I giallorossi rispondono all'undicesimo con Milizia dal limite dell'area, ma la sua rasoiata esce di un soffio a lato. Al ventunesimo il Francavilla passa in vantaggio, bel pallone di mele che taglia fuori tutta la difesa del Fabriano Cerreto, Zerbo tocca con la punta del piede superando Monti. La palla si stampa sul palo interno, rimbalza oltre la linea di porta ed esce, ma il direttore di gara assegna immediatamente la rete tra le proteste dei locali. Fino alla fine del primo tempo i francavillesi gestiscono il vantaggio senza alcuna preoccupazione. Dopo due minuti di recupero termina la prima frazione di gara. Ad inizio ripresa però si complica la gara del Francavilla. Zerbo al cinquantatreesimo minuto viene espulso dal direttore di gara per un presunto fallo su Tafani. Rosso diretto per l'autore del gol del vantaggio giallorosso. Nonostante l'uomo in meno gli abruzzesi si rendono pericolosi al cinquantottesimo con Palumbo che si divora il possibile gol del 2-0 su assist di Banegas. Miracoloso nell'occasione Monti. Alza il ritmo il Fabriano ma solo al settantacinquesimo minuto riesce a trovare il gol del pareggio. Sugli sviluppi di un corner Tafani svetta di testa e insacca le spalle di spacca. Nell'ultima emozione della gara il Francavilla gestisce le sortite offensive del Fabriano senza alcun pericolo. Prossima gara al Valle Anzuga domenica prossima con i nero stellati in attesa di conoscere il risponso della gara non giocata con Monticelli sulla quale pende proprio il ricorso del Francavilla. Se il giudice sportivo non lo dovesse accogliere si provvederà a fissare la data del recupero. Un punto guadagnato o due persi? Sinceramente due punti persi. Come ho detto prima ai tuoi colleghi non siamo abituati mai a commentare gli errori arbitrali perché comunque durante l'anno certe cose possono capitare a favore o a sfavore però oggi sinceramente su certe cose, su certi episodi l'arbitraggio ha lasciato molto a desiderare. Vedi il calcio di rigore che ha fischiato all'inizio era fuori area. L'espulsione ci è sembrata veramente eccessiva e determinante per la partita perché fino a quel momento il Francavilla era passato in vantaggio meritatamente stavamo conducendo la partita in maniera non dico perfetta però avevamo in mano la partita e purtroppo quell'espulsione ha condizionato la gara. Ma no accontentata no perché comunque ripeto dopo dieci minuti abbiamo perso l'attaccante Bojan per infortunio poi siamo andati in vantaggio meritatamente e abbiamo condotto la partita perché comunque su qualche ripartenza potevamo far male poi nel secondo tempo c'è stata l'espulsione e nonostante questo abbiamo avuto una palla clamorosa per andare sul 2-0 e quella avrebbe chiuso la partita. Poi chiaramente spulso Zerbo e non avevamo più punte che potessero attaccare la profondità e cercare di farci respirare e quindi questo ci ha fatto un po' arretrare il baricentro però sinceramente non ricordo palle gol o azioni nitide del Fabriano. Un punto pesante per noi perché in altri momenti due episodi negativi perché sbagliare il rigore dopo pochi minuti e subire subito il gol da una squadra molto forte che sicuramente lotterà per i primi cinque posti e poteva essere devastante nel nostro momento invece la reazione dei ragazzi e anche la ricerca fino alla fine della vittoria è stata importante quindi al di là del punto che comunque muove la classifica l'atteggiamento è un segnale di voler invertire un po' il trend dello scorso anno.